Dario Loggerini, il grande giorno è arrivato, il giorno dell'inaugurazione di questa sede della Croce Rossa italiana, comitato dell'Internal di Bergamo, ufficio territoriale dell'Alta Valle Seriana, un territorio ampio da coprire, ma voi qui anche grazie a questa posizione strategica sarete un vero punto di riferimento. Sì, abbiamo trovato in comodato d'uso gratuito grazie al Comune di Ponte Nossa che ci ha dato questa possibilità e che vogliamo ovviamente ringraziare. Abbiamo trovato questa postazione, questa posizione, i vecchi ambulatori ASL, USL dell'epoca e che abbiamo ristrutturato e adattato per le nostre necessità. Qui ospitiamo grosso modo un centinaio di volontari, un terzo con una qualifica base, un terzo con una qualifica di trasporto sanitario, un terzo per la qualifica di 118 ed è la postazione, come dicevi tu, strategica perché Ponte Nossa è una posizione abbastanza baricentrica per il territorio che noi andiamo a servire, che è abbastanza ampio, che parte dal Ponte del Costone, fa tutta la Valle del Riso fino al Passo di Zambla, l'Asta del Serio fino al Bondione, l'Alto Piano di Clusone fino al Passo della Presolana e la Valle Borlezza fino a Lovre, Costa Volpino e Erognio. Ricordiamo a tutti i nostri spettatori cosa c'è all'interno di questa sede? La sede l'abbiamo adattata in base alle nostre necessità, quindi c'è un salone per la formazione dei volontari, è una formazione molto importante che ci chiede anche tantissime ore di formazione in funzione delle specialità di ciascuno volontario. Abbiamo anche un'area di confort dove possiamo cucinare e stare in attesa delle chiamate al 118, qui abbiamo poi tutta l'attrezzatura collegata al 118, abbiamo le ambulanze qui vicino, qui sotto e delle camere da letto per fare eventualmente le notti quando sono necessarie. Abbiamo detto che siete oltre 100 volontari, come è l'organizzazione di questo importante gruppo? L'organizzazione del nostro ufficio territoriale è collegato al comitato Bergamo Interland, il comitato che racchiude 13-16 territoriali. Noi siamo una di queste, una sede territoriale e dipendiamo, quindi il nostro presidente è presso Bergamo Interland. Io sono il referente qui della zona, quindi mi devo occupare, mi occupo volentieri, è anche un bel impegno, di mantenere la formazione dei volontari, mantenere le qualifiche, coordinare il gruppo, raccogliere le esigenze del territorio e poi distribuirle in funzione delle diverse attività che vanno fatte e vanno erogate. È un gruppo anche eterogeneo, composto da persone meno giovani, ma anche dei giovani che hanno voluto mettersi in gioco e prestare il loro tempo prezioso per gli altri? Il gruppo sì, è un gruppo storico perché deriva dalla delegazione di Clusone, se qualcuno di voi si ricorda e conosce, la postazione era a Clusone. Poi per questione di spazi, di organizzazione, ci eravamo trasferiti a Gorno e da Gorno poi nel frattempo abbiamo trovato questa postazione più confortevole per le nostre attività e ci siamo portati qua. Ci sono diverse fasce di età, dalle più anziane e più storici, che ci danno una mano nelle attività di raccolta fondi, piuttosto che i nuovi entrati e anche giovani che hanno fatto il loro percorso formativo e adesso sono diventati soccorritori, esecutori e collegati anche con Arevo e al 118. So che tra le sorprese c'è anche un importante passaggio di consegno. Sì, noi abbiamo una signora che ha la sua bella età, ancora con noi, ci dà una mano e raggiunge l'anno prossimo i 40 anni di servizio, quindi tanta roba, è una bella cosa e sarà la testimone, passerà il testimone a uno dei nostri più giovani. Il momento più bello e il momento più difficile della preparazione di questa sede perché so che sono stati mesi davvero intensi. La situazione era abbastanza complicata per noi perché la sede che adesso voi vedete, bella, pulita e sistemata e riordinata, era in realtà tutta da sistemare e da riordinare. Ci siamo rivolti al territorio e abbiamo chiesto, sì, dei fondi per poter acquistare i materiali e tutta l'attrezzatura necessaria, ma soprattutto abbiamo cercato artigiani piuttosto che imprese locali e anche professionisti locali che ci potessero dare una mano nel sistemare e attrezzare la sede. Quindi questo è un po' il risultato. Noi siamo contentissimi della risposta del territorio perché ci hanno dato veramente una mano e quindi anche i costi si sono abbattuti notevolmente. Ed ora subito al lavoro. Quando l'inizio? Ebbene, noi in realtà la postazione è già operativa, quindi è già qualche anno, c'è stato il periodo del Covid che ci siamo un po' messi in difficoltà, abbiamo dovuto finire, fermare tutta la nostra attività di messa in sicurezza, messa a norma dei nostri cantieri, quindi l'abbiamo dovuti fermare. Terminati il Covid ci siamo dedicati poi a completare, a sistemare e fare. Avevamo anche delle priorità di formazione perché eravamo rimasti un po' fermi in quel periodo con la formazione e quindi abbiamo dedicato tantissime ore alla formazione dei volontari e adesso finalmente riusciamo a tagliare il nastro e a goderci appieno la nostra sede. Il prossimo corso quando sarà? Per diventare volontari di Croce Rossa, anzi vi invito se qualcuno volesse, noi apriamo le braccia e vi accogliamo e non è proprio che uno suona il campanello e gli diamo una divisa, c'è un piccolo corso da fare perché ci teniamo tantissimo a spiegare che cosa è Croce Rossa e cosa vuol dire diventare volontario di Croce Rossa perché abbiamo dei principi molto importanti legati tantissimo anche alla umanità quindi il volontario che entra con noi deve essere anche adeguato, adatto e possiamo seguire questi principi che deve un po' anche tatuarsi sulla pelle. Quindi basta venire qua e suonare il campanello per far parte della vostra squadra e poi chiaramente partecipare? No, non è sufficiente, noi abbiamo un portale nazionale perché poi Croce Rossa in realtà è Croce Rossa italiana il volontario di Ponte Nossa è il volontario di Croce Rossa italiana quindi non ci sono assolutamente distinzioni, è solo un'organizzazione territoriale un'organizzazione di buon funzionamento della macchina, della nostra macchina in realtà i volontari sono volontari di Croce Rossa italiana c'è un portale nazionale che si chiama gaia.cri.it dove uno si iscrive, fa la richiesta insomma a un certo punto quando attiviamo i corsi arrivano in base alla posizione territoriale di chi ha inserito la richiesta, arrivano le email, arrivano le notifiche e uno poi può interessarsi, avvicinarsi al nostro mondo. È un giorno importante per Ponte Nossa ma è un giorno importante per tutta l'Alta Valle Seriana per l'inaugurazione di questo nuovo spazio dedicato alla Croce Rossa italiana che trova casa qui a Ponte Nossa grazie a degli spazi proprio concessi, incomodati d'uso gratuito dal comune di Ponte Nossa. Stefano Mazzolini, questo credo che sia una delle grandi donazioni che avete fatto in questi anni. Sì, noi siamo molto felici oggi per questa giornata che non vuole essere un punto d'arrivo ma un inizio di una collaborazione tra il nostro comune e la delegazione dell'Alta Valle di Croce Rossa italiana. Siamo partiti direi quasi in sordina circa dieci anni fa quando l'amico e collega sindaco del comune di Gorno ci chiese una mano per trovare una collocazione provvisoria a Croce Rossa in quanto la sede nell'epoca, e mi riferisco alle scuole di Gorno, verso scolastico di Gorno, sarebbero state oggetto di un intervento di riqualificazione con ingenti fondi ottenuti dal comune. Quindi insieme al sindaco di Gorno ci siamo prodigati per cercare di mantenere sul nostro territorio, quindi nella nostra zona, la delegazione della Croce Rossa e siamo partiti con un piccolo appartamento presso la residenza Frua, un appartamento adibito per far alloggiare i volontari durante le notti quando prestavano servizio per il 118, quindi si è partiti quasi così in sordina. Poi la collaborazione ha preso una piega molto positiva e i volontari si sono inseriti anche molto bene all'interno del tessuto sociale e associativo della nostra comunità e quindi grazie anche a Dario Roggerini, il signor Dario dei miei collaboratori, i miei consiglieri, la maggioranza del Comune di Ponte Nossa, siamo riusciti a trovare questa soluzione. La nuova quindi sede di Croce Rossa Italiana ha trovato spazi nell'ex distretto Asle e sono circa 220 metri quadrati, quindi spazi di tutto rispetto e questa direi azione positiva da parte del nostro comune, da parte della nostra amministrazione di mettere a disposizione, incomodato d'uso gratuito per 25 anni, questi spazi, direi che ha generato ed è la cosa che ci fa maggiormente più piacere altre numerose azioni positive, mi riferisco a cittadini di Ponte Nossa, dei comuni vicini, artigiani, imprenditori e a tutti i volontari di Croce Rossa che insomma si sono prodigati a titolo proprio di volontariato per sistemare, per riqualificare questa sede che era veramente bisognosa, erano spazi che erano stati adibiti a distretto ASD agli anni 70 e quindi davvero bisognosi di un intervento di riqualificazione direi totale. Quindi oggi siamo qui, io mi sento davvero di dover ringraziare tutti i volontari di Croce Rossa ma in particolar modo, lo dicevo prima, il signor Dario Rogerini e per signore intendo davvero il termine più completo in quanto Dario è stato davvero la guida dal mio punto di vista di questo gruppo di persone e quindi sono davvero molto orgoglioso oggi di poter insieme a tutti i volontari, insieme a Dario, insieme a altri colleghi amministratori, insieme ad altre autorità della valle e non solo della nostra provincia di poter dare il via alle attività di questa nuova sede. Diciamo che è un progetto ambizioso iniziato nel 2018 con i primi accordi, sicuramente è stato reso possibile realizzarlo proprio dalla compartecipazione di tutti e questa è una testimonianza dell'integrazione di Croce Rossa col territorio, importanza fondamentale che ci consente di essere capillari e di cercare di essere presenti sempre e comunque per chiunque. Credo che sia importante anche il numero di volontari legati a questa sede, sono oltre 100 che per un territorio montano fanno davvero forse anche un fior all'occhiello. Sicuramente, l'attaccamento e la dedizione a Croce Rossa, Croce Rossa alla fine per il volontario ma anche per l'operatore, il dipendente diventa una sorta di seconda famiglia e in valle diventa questo legame ancora più stretto perché ci si conosce tutti e questa vicinanza si sente maggiormente. Che cosa rappresenta questa nuova inaugurazione e insomma anche questo punto di riferimento? Per i volontari innanzitutto deve rappresentare il fatto che uniti, lavorando insieme, se si crede in quello che si fa, i risultati arrivano e per il volontario la sede, il mezzo, la divisa sono l'unica ricompensa che ha e la pacca sulla spalla che sta facendo bene. Questa pacca sulla spalla arriva proprio dal territorio nel quale lui opera o lei opera, per cui ecco questo è un po' il riconoscimento ed è la gioia e l'emozione che tu leggi nei loro volti soprattutto oggi. Qui si penserà anche alla formazione con uno spazio dedicato, anche questo non è un fattore da sottovalutare? Croce Rosse e sistema sanitario, ma Croce Rosse in generale puntano a sempre una maggiore formazione e qualificazione del personale in tutti i servizi, non solo in quello dell'emergenza urgenza ma anche nel sociale, nello psicologico e in tutte le altre attività che noi portiamo avanti. Consente una rete, una sede presente sul territorio, più apportata, più vicina alle persone, consente di recepire in maniera più efficace i bisogni della popolazione e quindi in funzione di quelle sviluppare servizi che possano essere efficienti per le necessità. Cosa bolle in pentola? Allora, l'arrivo di un'ambulanza nuova che dovrebbe arrivare all'inizio dell'anno prossimo che è di fondamentale importanza per la nostra delegazione che seppur piccola fa appunto come spiegato prima anche il servizio 118, i nostri mezzi sono datati e hanno un bel po' di anni e abbiamo necessità adesso di cambiare questa ambulanza e stiamo parlando di un'ambulanza ad alti livelli anche dal punto di vista tecnologico come allestimenti e quant'altro, quello che offre di meglio il mercato perché abbiamo la possibilità di prendere un'ambulanza con i soldi che siamo riusciti a raccogliere, stiamo tuttora raccogliendo e puntiamo a avere un mezzo veramente efficiente e performante appunto all'inizio del prossimo anno. Che emozioni si prova a essere volontario della Croce Rossa italiana? Volontario della Croce Rossa italiana è a 360 gradi un insieme di emozioni che può provare una persona, un uomo, una donna. Croce Rossa dà possibilità di fare tantissime cose, nulla togliendo le altre associazioni, gli altri enti, gli altri colori perché alla fine siamo tutti nella stessa famiglia ma Croce Rossa, essendo a livello nazionale, può dare tantissime possibilità di crescita dal sommozzatore al soccorso piste, al volontario dell'ambulanza, al clown, a tantissime cose perciò la Croce Rossa dal punto di vista umano, tecnico, anche questo professionale può dare veramente tanto, diciamo un po' più di possibilità che possono dare altre ma ripeto ma in realtà un po' più piccole ma giustamente così. Croce Rossa ha anche questa possibilità. Un'ultima battuta, il grazie più bello che hai ricevuto? Il grazie più bello che ho ricevuto può essere sicuramente durante i servizi fatti con l'ambulanza. Io faccio prevalentemente faccio ambulanza, non faccio altro, perciò quando siamo abituati a non ricevere mai grazie, diamo sempre un po' tutto per scontato, quando ogni tanto da parte di una persona che ti guarda e ti dice grazie per quello che fate, ti soffermi un po' e dici effettivamente grazie, mi fa piacere, ti riempie il cuore. In questa epoca un po' scontato, dove tutto viene dato così, è normale. Invece fa piacere, fa piacere.